Color Your Life, giovani talenti crescono! Siamo qua al Color Campus con l'esperto Gigi Mozzi che ci ha introdotto alla comunicazione. Le sue esperienze lavorative? Io ho fatto l'operaio, ho fatto il metallurgico, ho fatto il pensatore, ho fatto tantissime cose. Quello è legato alla comunicazione? Beh di brutto dall'inizio, dall'inizio quando ero in Ferrero, quando Ferrero mi ha chiesto di occuparmi di Nutella, perché secondo lui ero un uomo di marketing, quindi voleva che mi occupassi di quello. Poi mi sono occupato di comunicazione al tempo dell'olandesina, tu non c'eri ma qualcuno che ha i capelli grigi o senza capelli si ricorda. Mira mira l'olandesina, poi ho lavorato per la Panigal, facevo il direttore commerciale, ma mi occupavo anche della comunicazione, quindi per Santa Rosa, per Sole Piatti, per Sole Bianco. Abbiamo vinto anche un premio a Cannes, un leone d'oro con Armando Testa, quindi ho fatto un bel po' di cose. Gli argomenti del pianeta? Beh, gli argomenti erano relativi alla comunicazione e ho cercato di raccontare delle cose relativamente, tra virgolette, nuove sulla comunicazione. Cioè ho cominciato a dire che noi siamo comunicazione, perché come dice Altan, si nasce e si muore e in mezzo solo chiacchiere, cioè comunicazione e poi ho chiesto anche di riflettere sul fatto che non si può non comunicare. E poi ho spiegato che è molto più importante a volte quello che non si dice di quello che si dice e che è importante distinguere, separare, tenere veramente accuratamente divisi il mondo dell'informazione, cioè quando si mette in forma un messaggio, al mondo della comunicazione, quando si mette in comune il messaggio. Cosa pensa DeColor? Sono stato molto sorpreso, positivamente, della capacità di attenzione, dell'impegno che ci avete messo per tenere gli occhi aperti e per dare idea di seguire la lezione, perché era abbastanza complessa e difficile. Complimenti. Che sfide ha raccolto e che soddisfazione ha avuto al Color Campus? Beh, le sfide sono quelle che vi ho lanciato io. Io non ho ancora raccolto i risultati, aspetto che abbiate voi successo nella vita. Quello sarà il risultato che mi aspettavo. Grazie per essere stato con noi. È stato un grande piacere.